Ciao a tutti ragazzi, eccoci di nuovo con la Makeup Collection Oggi vi parlerò di terre ed illuminanti, ho deciso di metterle insieme perché comunque non sono tante e quindi ve ne parlo di tutte e due Partiamo subito dalle terre Partiamo in assoluto da una delle mie preferite che ormai vedete praticamente in ogni mio video Ed è la terra della Sun Club di Essence L'ho comprata il mese scorso, non me ne separo praticamente più perché è diventata una delle mie terre preferite È davvero buonissima Matte Bronzing Powder, è una terra completamente matte Non semplice da trovare Appena la si apre ha questo odore buonissimo di cocco È davvero favoloso Come vedete questa qui Ci sono due colorazioni Una per pelle più chiare referita alle bionde E una per pelle più scure per le more Io ho preso quella per le pelli più chiare ovviamente Che è la 01 Natural Ed è questo colore qui Che se ve lo swatcho sulla mano a meno che non vado giù pesante Non si vede molto Perché appunto è perfetta per la mia pelle È ottima sia per fare un leggero contouring Essendo comunque opaca e non molto aranciata come vedete E soprattutto per un effetto proprio baciato dal sole Un effetto molto naturale Molto bello appunto E che altro dire Io la adoro E a questa terra gli do 8 Altra terra che mi piace molto È questa qui della Elf Il Golden Bronzer È una terra non opaca Ha questo specchio grande sopra Ed è questa terra di 4 tonali da diversi Io solitamente quando la vado ad usare Con un pennello da viso Vado a prendere tutto il prodotto mischiato Perché comunque col pennello grande da viso Prendere solamente una parte rimane anche un po' difficile Però gli viene un bellissimo colore Come vedete ha due parti un pochino più chiare E due parti un po' più scure Quindi è anche un po' consumata Ma il colore è davvero molto molto naturale Sul viso non si nota molto Non riesco neanche a farvelo vedere Accanto a questo È davvero molto chiara E cioè va bene soprattutto per le pelli chiare come le mie Ovviamente per una pelle più scura Non si vedrebbe quasi per nulla E quest'anno la uso per il contouring Anche perché come vedete ha delle micro perlescenze all'interno Ma la uso per un effetto baciato dal sole Però vi dico anche che Questi micro brillantini Quando la swatcho si notano molto Ma una volta stesa sul viso Dà molta luminosità Ma non sono visibili proprio i glitter Quindi è molto molto carina Ha una buona durata Viene pochissimo E ve la straconsiglio E io do voto 7 Altra terra È quella della neve Che ho all'interno della mia palette Ed è questa qui È California È questo colore Che Anche questo Se lo swatcho Non siete quasi nulla È questo qui Sul sito di neve Viene definita come un rosa biscotto Ma oddio a me rosa biscotto Non sembra È comunque molto molto naturale E è completamente opaca Anche questa Quindi va bene Anche questa volendo per un contouring O anche qui per un effetto Solamente proprio da terra abbronzante È veramente buonissimo Anche questa ha una buona durata E gli do a voto 7,5 Sarà che comunque in generale Mi piacciono di più le terre opache Di quelle brillantinate Quindi Poi ho questa terra Che sinceramente Non vi so dire il nome Perché era una terra Kiko Che mi si è rotta L'ho prestata completamente E l'ho messa in una gerretta di Kiko Però onestamente Non vi so dire il nome So solo che è scurissima per me Ve la faccio vedere In confronto alle altre Che neanche si vedevano Questa come vedete Si vede come E ogni volta Per stenderla Un po' un problema Perché per me è veramente Troppo scura E Vira troppo sul marroncino E non fa un effetto Molto naturale Oltretutto Dopo un po' Che ce l'ho su E mi va a fare Delle macchie Quindi sinceramente Non mi piace molto E la uso davvero poco Perché appunto Se so che devo stare Un po' più tempo Fuori casa Vedersi poi delle chiazze in viso Non è una cosa molto carina Vi ripeto Mi dispiace Non vi so dire Che il nome è la terra Sono sicura Che però Era un'edizione limitata Quindi Neanche la trovate più E a questa Dovoto 5 Le terre sono finite E per questo Ho deciso anche Di metterci Gli illuminanti In questo video E inizio subito Da una palettina Che mi piace tantissimo Ed è questa palette Della Elf Si chiama Shimmer Palette Ed è appunto Una palette Di illuminanti All'interno Ha questo pennellino Con cui lo applico Spesso e volentieri Anche se spesso Diciamo Lo applico con le dita In alto ha questo specchietto E poi ci sono 4 illuminanti In crema E' carinissima Questa palette Perché appunto Si ha la scelta Di 4 illuminanti In una sola palettina C'è Questo qui Che è un bianco Perlato Questo è Un rosa chiaro Questo è un vicolino E questo è un rosa Un po' più scuro Ve li faccio vedere Il rosa chiaro E' questo qui Sì il rosa chiaro Il bianco E' questo qui Che come vedete Rimane molto Molto luminoso E molto bello Sono Satinati Ma senza brillantini Ed è una cosa Che mi piace moltissimo Se vedete Brillantini di base E' di un altro prodotto Che ho scocciato sotto Ma non c'entra Con questo Il rosa chiaro Che è in assoluto Quello che utilizzo Più di tutti Non si nota quasi La differenza Da qua Ma vi assicuro Che qua sul viso Si nota E' questo qui Che Non riesco Che sia la fotocamera Dell'iPhone Fa quello che può E' un rosa E' un rosa Molto chiaro E molto Molto bello Il beige E' questo qui Tende molto Al dorato Ed è Questo Anche questo E' molto bello Perché ha dei riflessi Bellissimi Questo lo utilizzo Soprattutto di sera E mi piace molto E infine Il rosa più scuro Che fra tutti Forse è quello Che utilizzo meno E' questo qui Ed è Questo Che si vede Che è molto più rosa Degli altri Ma è molto molto carino Anche questo In generale E' una palette Che vi straconsiglio Soprattutto Anche magari Per chi ha le prime armi E vuole un po' Sperimentare Perché avviene Se hanno Quattro tonalità Di colori diversi Si riesce anche a capire Magari Quella che sta meglio Su se stessi E' Veramente carina Anche l'applicatore E' comodo E questa Dovoto 8 Altro illuminante Che mi piace davvero Davvero molto E' questo Della pupa Della Collezione limitata Chinedoll Si chiama Luminous Touch Pirli Edition E' fatto A penna Basta spingere Il tappino sopra E' lo 01 Basta spingere Il tappino sopra E esce il prodotto E' bellissimo E' Stupendo E' questo Beggiolino Un pochino Tendente a rosa Che una volta Sfumato Diventa Sulla pelle Diciamo Quasi impiercettibile Lascia di colore Che è quello Che a me piace Degli illuminanti Ma rimane Molto molto luminoso Ed è pieno Di glitter Infatti questo Lo utilizzo Spessissimo Di sera Tra l'altro L'ho usato Spesso Per trucchi veloci Anche usandolo Come ombretto E fa un effetto Bellissimo Questo in mascara E' allucinante Quanto è bello L'ho preso All'outlet Quindi l'ho pagato Di meno So che costicchia Un po' Intorno 15 euro Se non sbaglio L'ho pagato Intorno ai 5-6 Quindi se avete Un'outlet Pupa Nei paraggi Fateci un salto Anche perché Non penso nei negozi Si trova più La China Doll Come collezione Ma negli outlet Si Quindi questo Io ve lo straconsiglio Perché è un illuminante Bellissimo E gli do Voto 8 Altro illuminante Che ho da poco Sono queste perle Della essence Le cookies And cream Shimmer Peer Hanno all'interno Questo piumino Di Cioè Per solo Per proteggerle Insomma E sono Queste perle Qui Davvero Bellissime All'inizio Provavo ad applicarle Con il classico Pennello A ventaglio Ma sarà che Questo fa un po' Pena Perché È davvero Tre sedole In fila E quindi Se faccio così Non prelevo proprio Il prodotto E quindi L'ho bocciato E adesso Le applico Sempre con Eccolo Questo pennello nuovo Che ho Della Elf Il blush brush Che ve l'avevo Che ve l'avevo fatto vedere Nel video All the elf Vi lascio Il link Perché vi feci vedere Che rispetto agli altri pennelli Era più affusolato E questa cosa Veramente comoda Per queste perline Perché Io l'ho trovata Io l'ho trovata Per caso Dopo che le cercavo Da mesi E sono contenta Di averle trovati Perché meritano davvero E gli do a voto 8 Sono super generosa Con gli illuminanti E infine L'ultimo illuminante Me l'ha mandato Irene E su instagram Me la trovate Come amore cosmetico Vi lascio il link Sotto Ciao Ed è questo Il illuminante Della Shaka Il 7 Shiny gold Non penso Lo legiate Perché non si vede Ed è Carinissimo In realtà Adesso Sto leggendo Che c'è scritto Ombretto in polvere Ma io lo utilizzo Come illuminante Ed è Stupendo Questo color oro Che una volta sfumato Anche questo Non rimane molto visibile Ma è Luminosissimo E fa una luce Spettacolare Ha questi riflessi oro E Bellissimi davvero Lo sto usando Tantissimo Soprattutto appunto Con i trucchi Un po' Più sul marrone Scuri Lo metto nell'arcata Da una luce Spettacolare O anche come Appunto luce All'interno dell'occhio E mi piace tantissimo E ringrazio ancora Irene E a questo Do voto 8 Quindi ragazzi Ho finito Gli illuminanti Come vedete Sono tutti Strapromossi Fatemi sapere Qual è La vostra terra preferita E anche gli illuminanti E aspetti i vostri commentini Ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao